Un caso scoppiato dopo la dipartita del direttore del consorzio di bonifica Piombafino, Franco Gerardini, che ha ottenuto un nuovo incarico e la scoperta della nuova nomina affidata a Carla Carpegna e oltre a questo il caso delle indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione. Dopo più di una richiesta di chiarimento da parte dei sindaci di Atri, Pineto, Silvia, Arsita, Castiglione e Serraimondo, la decisione è stata quella di presentare un esposto alla Corte dei Conti e proprio oggi, nel corso dell'Assemblea dei Sindaci in Causa, a presentarsi è stata la neodirettrice contestata, Carla Carpegna, giunta per chiarire alcuni punti. Ho accettato di prendere quell'incarico specificando nella delibera che sarebbe stato esclusivamente a tempo determinato per 60 giorni, solo per gli atti di ordinaria di amministrazione e nell'emore dell'espletamento di un nuovo avviso pubblico che in effetti di lì a poco è uscito ed è stato pubblicato. L'incontro con la Carpegna è stato accolto con favore da parte dei sindaci che restano però sulle loro posizioni e spiegano che a quel tavolo, probabilmente, avrebbe dovuto presentarsi qualcun altro del Consorzio di Bonifica citato. Prendiamo atto che la dottoressa Carpegna è stata coraggiosa, cioè coraggiosa, si è presentata, è venuta, è partecipata al dibattito, probabilmente era più logico che venisse qualcuno in rappresentanza del Consorzio. Noi abbiamo fatto due note al Consorzio per un po' fine e non ci hanno risposto. La prima nota riguardava la determina della liquidazione dei compensi, su cui noi riteniamo che non debbano essere dovuti. Poi abbiamo saputo, anche in virtù in quella delibera, in quell'assemblea dei sindaci di cui faceva riferimento la dottoressa Carpegna, che era stata nominata facendo funzioni, quindi la nomina di direttore del Consorzio, avevamo sollevato in quella sede dei dubbi. E quindi alla luce di questa abbiamo scritto una successiva nota, chiedendo spiegazioni, perché ritenavamo che la dottoressa Carpegna, anche nel ringraziarla della sua opera che sta prestando per il Consorzio, non abbia quei requisiti per ricoprire quel ruolo e quella carica. Non ci hanno risposto, quindi noi riteniamo che sia giusto, da amministratori pubblici, chiedere un'interpretazione, un chiarimento alla Corte dei Conti.